quanto conta l'idea in un business di successo poco poco no conta poco perché capisci che l'idea è un'idea che tu hai nel momento zero ma un business successo è fatto da vari da un lungo periodo di tempo e quindi può essere che l'idea cambi perché ti incontri delle difficoltà o dei problemi e quindi sei obbligato a dover cambiare l'idea e quindi giustamente l'idea è una fase zero che ha un valore minimo. Riusciresti ad assegnargli una percentuale nel successo globale di un business l'idea. Se la colleghi all'obiettivo di quell'idea o al goal che tu associ a quell'idea lì potrebbe essere un quarto un 25 per cento 20 25 per cento.